... qualcosa, fai volare via la nostra Corinna. Senz'altro, dottore, io sono sicuro che i nostri sceneggiatori troveranno una soluzione brillante. Bravo. E mo' che cazzo si inventava? Eh, scusami, ti volevo dire una cosa a proposito delle sceneggiature degli ultimi mesi. Sì, ecco, se mi fai anche la cortesia di riferirlo ai tuoi colleghi sceneggiatori. Vaffanculo, il notaio comico degli mortacci vostra! Brutta merda di uno sceneggiatore avido bastardo! Sei un pagliaccio, sceneggiatore cane che ruba il lavoro a quelli bravi! Quanti lavori sei? Quante case te sei comprando? Eh, brutta merda, sceneggiatore decapabio de staffava! Attacca dal cazzo! Al cazzo te devi attaccare! Hai capito? No, dico, che se muore Martellone deve morire pure la piccola... Ma tu sei una testa di cazzo senza pari! Ma tu vuoi uccidere la speranza di milioni di italiani? Ma piuttosto muore tu e tua sorella, pezzo di merda! Trova una soluzione e lascia stare la bambina, eh! Certo, certo. Cronzo! Testa di cazzo! Vabbè, non se ne esce, non se ne esce, non se ne esce, non cacca miseria! Perché non lo andavo! Metti... Ma che metti? Metti il 5 di picca sotto al 6! Io ho già allertato gli sceneggiatori! Capirai! Voglia di sceneggià, sarta ma addosso Struttura tu, che io mo' non posso Zara da 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 Grazie a tutti.